Nella giornata di ieri a Battipaglia sono stati ritrovati in via Domodossola tre cani randaggi privi di vita, probabilmente avvelenati. Sembra che poco distante ai corpi degli animali vi fosse anche del cibo, probabilmente lo stesso, che i poveri cani hanno mangiato ignari di tanta barbadia da parte dell'uomo. Indignati anche i passanti, i cittadini battipagliesi gli hanno mostrato sconcerto e sconforto per quanto accaduto. Nei giorni precedenti una decina di cani sono stati trovati privi di vita dove levano sul Tusciano ed anche sui monti dieboli. Intanto ieri pomeriggio è stato segnalato un sacchetto sospetto in via Vanfredi nei pressi di una colonia felina dei volontari della DPA Onlus. All'interno del sacchetto una sostanza di colore blu mischiata ad alcuni pezzi di carne. La sostanza è stata immediatamente segnalata all'ASLA che effettuerà gli esami tossicologici. Al momento si sospetta si tratti di metaldeide. La raccomandazione a chi ha bambini e animali in casa è di verificare la presenza di eventuali frammenti della sostanza sotto le sole delle scarpe. Sui casi sospetti, segnalati anche alle autorità competenti, si avvieranno delle indagini per capire se si tratta di persone senza scrupoli che vogliono avvelenare gatti e cani per chissà quali motivi subdoli e meschini oppure se è un solo individuo come successo per il passato che andò anche alla ribalta dei media nazionali per aver avvelenato dei gatti. Di certo si tratta di persone con dei problemi molto seri che provocano il decesso di animali senza nessuna colpa.